La dermatite atopica, una patologia piuttosto diffusa ma difficile da diagnosticare, da cui l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, guidata dalla direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha aderito alla campagna nazionale dalla parte della tua pelle. Presso il reparto di dermatologia del presidio ospedaliero Rummo, visite dermatologiche gratuite finalizzate alla sensibilizzazione su questa patologia per la quale sono state messe a punto terapie innovative. E' andata bene come ci si aspettava, con una buona affluenza di persone e con un'utilità trasmessa un po' all'utenza rispetto a quelle che erano i fini di questa giornata. Una patologia anche difficile da individuare? Esatto, perfetto. Questo è proprio il limite un po' generale nell'affrontare la patologia ed è il limite che è un po' vento fuori in questa giornata, in quanto molte, almeno la metà delle persone, in realtà non avevano proprio una sintomatologia chiara. È una patologia che tende a sfuggire ovviamente all'attenzione del paziente, sfugge spesso e volentieri all'attenzione del medico non specialista e crea difficoltà oggettivamente anche al medico specialista. Non è una malattia contagiosa, ma quali sono i sintomi? Come riconoscerla? La malattia atopica in realtà è l'evoluzione, è un termine che va ad inglobare, è quella che poi è l'eccezema costituzionale, eccezema infantile, che è molto più noto, diciamo, crostalate, tutte quelle patologie di tradizione, che hanno una configurazione molto popolare quando si manifestano nei primi mesi, nei primi anni di vita, ma che tendono a interessare in moltissimi casi l'intero arco della vita, sintomi che alle volte sono anche molto molto impegnativi, perché a differenza di altre patologie croniche della pelle, pure molto molto impegnative e più note, per esempio la psoriasi, l'idrosadenite, il paziente con dermatite atopica e che zema atopico ha il sintomo del prurito, che è un sintomo effettivamente molto impattante sulla qualità della vita, sono pazienti che nelle forme gravi dormono male, dormono poco e quindi sono pazienti molto, come dire, suddigili, tra virgolette, per quanto riguarda proprio la qualità della vita. Come curare la dermatite atopica? La dermatite atopica è una patologia cronica e come molte patologie croniche e infiammatorie, non soltanto in campo dermatologico, ma anche in campo reumatologico, in campo gastroenterologico, si cominciano a giovare di nuove classi di farmaci, che sono i cosiddetti farmaci biotecnologici. Da poco è utilizzabile un farmaco biotecnologico specifico per la dermatite atopica, molti altri ne verranno.